Posso dire che è stata una delle partite più noioso che ho mai visto di questa stagione Verona 0 e Ampli 0 Allora vi dico subito che ho portato questa post partita Perché non posso portarvi quelle successive a parte Juve e Minam Perché Bologna e Napoli, Monza, Lecce e Lazio Cremonesi Non posso portarli perché devo fare altre cose Quindi vi porto questo perché non posso portarlo Se no avrei portato probabilmente o Monza, Lecce o Lazio Cremonese Oppure Bologna e Napoli Però parliamo di questa partita Allora Verona che chiaramente gioca per salvarsi Le Ampli invece non ha obiettivi perché le Ampli salvo da un paio di giornate Ha vinto per 4-1 sulla Juve all'ultima giornata No, non all'ultima giornata Nella 36esima giornata E quindi è un po' la partita alle 12.30 A parte che non capisco minimamente perché si giochi alle 12.30 Che è un orario scomodissimo Veramente perché la gente mangia, punto 1 Fa un caldo della madonna E proprio anche, non dico deprimente Però, cioè fate vedere le partite ad orari diversi, Dio santo Cioè fate vedere le partite ad altri orari Non alle 12.30 Penso che sia un orario peggiore per far vedere delle partite Ecco Detto questo Partita veramente noiosa Diciamo che se nei primi minuti Era fare il Verona al gioco Poi l'Empoli Comunque è stata brava a ripartire Nel senso All'Empoli manca un po' quella concretezza Perché Piccoli è un attaccante proprio Che a me sinceramente non piace Caputo stesso discorso a Empoli Non sta facendo gran che All'Empoli mi manca quell'attaccante Cioè mi manca quell'attaccante Che avrà l'anno scorso con Piramonti Ecco L'Empoli è vero che sta ripartendo In contropiede L'Empoli sfrutta molto il contropiede E tra l'altro Quello che probabilmente ci sta provando un po' di più E quello che sta a mio avviso Giocando meglio di davanti E Cambiaghi E ha avuto subito una chance Appunto Cambiaghi Con una conclusione Parata Da Montipò Ecco Che era uscito male qualche minuto prima Chiaro che ripeto Cambiaghi è quello con più qualità Secondo me nell'Empoli Per quanto riguarda il Verona Diciamo che Non mi sta Convincendo tantissimo La partita del Verona Chiaro che Il Verona anche con un punto Diciamo che Con un punto andrebbe a 31 punti Quindi Sfiderebbe Vabbè Sfiderà il Milan All'ultima giornata Mentre lo Spezia sfiderà la Roma Chiaro che Un conto di soli ieri Lo Spezia faceva risultato Almeno un pareggio Il Verona avrebbe sicuramente Interpretato la partita In maniera differente Su questo non c'è dubbio Il Verona Se eventualmente Pareggia oggi Andrebbe a pari punti Con lo Spezia A meno che lo Spezia Faccia un miracolo a Roma E che In Verona Faccia un miracolo A Milano Probabilmente Si giocherà Allo spareggio Ecco Chiaro che se il Verona Vince oggi invece Non dico che salvo Ma quasi Perché Lo Spezia dovrebbe vincere a Roma Quindi sarebbe comunque Così impossibile Però sinceramente Il Verona ci deve Credere di più Chiaro che Sicuramente In Gong È un giocatore Molto più forte Degli altri Nonostante Si mangia tanti gol Nonostante Non è secondo me Una punta centrale È un giocatore Che si vede Che ha qualità Importanti Se il Verona Sta giocando Per la salvezza È anche merito Di In Gong Ecco Che ha sbagliato Due tretini E ha mandato Su tutte le fure Bocchetti Però In Gong È stato l'unico A provarci In realtà Perché Giudice male Da mezzo E così E così Forse Terracciano Un po' meglio Degli altri Sta mettendo Tanti cross Un buon giocatore Terracciano Appunto Nasce un cross Dalla destra Di Terracciano Colpi testa Di In Gong Traversa Con un tocco Di Vicario Ecco Chiaro che ripeto Verona Boh Cioè nel senso che Non sta facendo Una gran partita Anche se guardiamo I tiri Sette tiri A sette Due tiri Al Verona Un tiri Un porta Al Lembre Quindi partita Molto noiosa Fino ad ora È vero che ci sono stati Tanti tiri Ma la maggior parte Sono stati tiri inutili E i tiri Non nella porta Tra l'altro Cinque minuti Di recupero Di recupero Nel primo tema Perché si è giocato Veramente pochissimo Perché Ci sono state Tantissime interruzioni Con in break Tanti Momenti In cui i giocatori Erano Stanno Anche comunque Giocare in queste condizioni Non è semplicissimo Quindi Posso anche capire Che i giocatori Non stanno correndo Tantissimo Posso anche capire Questo Diciamo Detto questo Ci vediamo Nel secondo tempo Ultimi istanti di match Verona 1 E in polizero Con questo risultato Il Verona sarebbe A 33 punti A più 2 Punti Dallo spezia Diciottesimi In campionato Allora Verona 1 E in polizero Partita ripeto Non bellissima Perché Me l'aspettavo Perché Verona Non è una squadra Che fa tutto Sto gran calcio Fatica molto A segnare Però Incredibile Pazzesco 1 a 1 Incredibile Pareggio Dell'Empoli Pazzesco 96esimo minuto Verona 1 Empoli 1 E in questo momento Il Verona sarebbe A pari punti Con lo spezia Non ci credo A un passo Dalla salvezza Il Verona Adesso Cioè se La probabilità Era alta Di salvarsi Sull'1 a 0 Ora La probabilità Di salvarsi Sarà tipo Del 35 40% Incredibile Gol Di chi è Di Stojanovic Di Stojanovic Il Verona Stava soffrendo Nel finale Risultato giusto 1 a 1 Però Il Verona Era andato in vantaggio Con Gajk Incredibile Un tiro di Ngongi Che è poi uscito Per infortunio Incredibile Incredibile Un tap in Bello di Gajk Che è andato anche vicino A raddoppio Palla fuori Eccoli Se l'è un po' mangiato Il gol Incredibile Mancano 30 secondi Ma senz'altro Ci saranno Altri secondi In più Chiaramente per il pareggio Almeno credo Incredibile Cioè è vero che il Verona Non ha fatto una gran partita Non mi è piaciuto L'approccio Nel secondo tempo Perché L'Empoli Era andata Anche vicino Allo 0-1 Con il Buey Palla alta Di poco Sopra la traversa Se ne è proprio mangiato Il Buey Che è poi uscito Per l'infortunio E poi forse Alla prima occasione Buona Nel secondo tempo Il Verona Ha trovato Il Il gol Nel Ponte Nel secondo tempo Con Geic Però poi Da quel momento Lì Ha preso Consapevolezza Il Verona Ma poi L'Empoli Negli ultimi minuti Stava per Rend Quindi direi Risultato giusto Ma Incredibile Cioè veramente Questo punto Sa di sconfitta Per il Verona Perché in questo momento Verona 31 Spezia 31 In teoria Si dovrebbe giocare Lo spareggio Mi sembra Per la salvezza Però Pazzesco Bocchetti Caccia una bottiglietta Tra l'altro Ottima notizia Per il Dece Perché adesso E' salvo Non dico Aritmeticamente Ma quasi Ecco Cioè Il Verona E E lo Spezia Dovrebbero vincere A Milano Quindi E' salvo Visce 1-1 Pazzesco Fatemi sapere Cosa ne pensate Però Amarezza 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 tantissima Per il Verona E Empoli Che la riacciufa Il 96esimo Con Stoiano E ci stanno quasi piangendo I giocatori Stanno quasi piangendo Ma fa veramente male Perché il Verona Era a un passo Dalla salvezza Ora invece Si fa un po' più complicata La questione